Il vecchio con gli stivali Il municipio della mia città è pieno di cartaccia. Quando la mattina della domenica gli uscelli si fanno aiutare dalle moglie o dalle figlie per spazzare i pavimenti, grattare le volte, battere e picchiare gli scaffali, la polvere si affaccia alle finestre e ai balconi come una bestia restia e dagli occhi imbambolati che non voglia fare un passo fuori dalla buia stalla in cui ha piacevolmente poltrito. Nel 1930 queste cartaccia erano così numerose e fitte che si stabilì di accattastarle negli angoli delle camere fino al soffitto come grosse colonne adibite a rafforzare l'edificio. Nella stanza di fondo al corridoio, la meno luminosa, quella che molti scambiavano per il luogo di decenza, i minutari, matricole, bollettini, campioni, repertori, non soltanto coprivano le pareti ma formavano come dei muretti divisori in mezzo ai quali con estrema cautela si inoltrava la mattina un uomo di mezza età. Magro e curvo come di solito sono le persone alte e non di meno corto, molto più corto del normale, ma non spiacevolmente corto, al contrario. Corto nel modo meno buffo, uno di quegli uomini piccini dei quali si apprende senza meraviglia che sono padri di ragazzi alti e ben fatti. Egli era l'impiegato Aldo Piscitello, il primo che varcasse la porta del municipio quando ancora l'acqua della lavatura sullo scalone di marmo non s'era asciugata, sicché il suo ingresso rimaneva stampato sul pavimento del corridoio con le orme un po' lunghe di coloro che trascinano i piedi. In qualunque stagione si era presentato al municipio in giacca nera, pantaloni a righe, colletto duro e cappello a cencio col nastro rattoppato. Non si capiva se era un po' sordo, perché in verità chi avesse sangue nelle vene e non fosse sordo avrebbe risposto Dio sa come al portiere che vedendolo camminare sullo scalone ancora umido aveva sempre mormorato «A questo qui, la mattina, lo svegliano le corna che ha in testa!» La frase venne pronunciata per intero nel 1920. Poi si accorciò di alcune parole «Lo svegliano le corna!» E infine nel 1930 si era ridotta alla semplice esclamazione «Corna!» Ma forse non aveva sangue nelle vene, tant'è vero che non soffriva il caldo e mentre tutti in luglio bestemmiavano contro l'olario iniquo e si tiravano i pantaloni e rimboccavano le maniche e passavano il fazzoletto dentro la camicia sul petto e le accelle egli non aveva mai sbuffato né portato la mano al colletto duro per allentarlo Tuttavia quest'uomo probo e poco rumoroso aveva un difetto aspramente contrario alla sua natura soffriva di sbadigliarella nervosa e naturalmente nelle occasioni meno opportune Al suono del suo sbadiglio tra il guaito e pianto di neonato gli usceri si svegliavano brontolando come fa brutto ma la nuova a lui nella fotografia che tutti gli impiegati vollero farsi insieme al sindaco nel 1923 si vede Piscitello che sbadiglia e il ricordo più tetro delle signorine Zingales è questo suono fra di guaito e pianto di neonato che Aldo Piscitello emise almeno dieci volte nella chiesa del Carmine durante le eseque del loro padre tanto che Elena, la più grande smise di piangere e mormorò una col cuore nero che ha deve anche sentire quello lì che si annoia oltre questo difetto egli aveva un segreto un amaro, inconfessabile segreto a cinquant'anni suonati non era riuscito a diventare impiegato di ruolo avventizio gli gridava la moglie quando litigavano ed egli correva a chiudere le finestre per non farlo sentire ai vicini avventizio ribatteva lui ma nessun sindaco mi ha licenziato e nessun sindaco mi licenzierà mai perché tutti mi stimano avventizio sì ma come se fossi di ruolo e non che una mattina del 1930 il podestà lo chiamò nel suo gabinetto e gli disse io dovrei licenziarla perché lei non è iscritto al fascio Piscitello si fece pallidissimo portò la testa indietro e indietro e disse mamma poi cadde a sedere su una sedia imbottita posta davanti al tavolo non faccia così diamine continuò il podestà io devo eseguire e nel modo più rigido l'epurazione del personale perché qui si è detto fra noi c'è molta gente baccata ma lei anche per riguardo a sua moglie che è sarta della mia signora perché dice sarta supplicò Piscitello in mezzo a sbadigli penosi non le permetterei di fare la sarta qualche volta aiuta le signore amiche ah buffò il podestà insomma lei farebbe bene a iscriversi nel fascio vuole un consiglio si iscrive in quello di Canicattì dove il segretario politico è un mio cliente e se io gli dico una parola e lei dal canto suo gli fa capire insomma si regoli lei nonostante le iscrizioni siano chiuse troverà il modo di farla figurare come iscritto io disse Piscitello non ho fatto mai politica e mi sono trovato sempre bene ma ora deve iscriversi al fascio c'è poco da sbadigliare ha capito che si tratta del pane del pane per lei e per i suoi figli quanti ne ha? tre e l'ultimo è piccino di quanti anni? è nato nove mesi dopo la visita di sua eccellenza Mussolini in questa città e si ricorda mi hanno dato per la strada con rispetto parlando uno scapaccione perché non mi ero levato il cappello e che c'entra il figlio con questo? eh sì la sera io non so più com'ero molto arrabbiato signor Podestà perché il cappello me lo sarei levato se avessi saputo e non potevo dormire e mi facevo tenere le mani da mia moglie e la baciavo piangendo insomma è venuto fuori questo figlio che non ci voleva davvero sua moglie deve essere una gran brava donna comunque Piscitello restiamo intesi io rimando l'esame del personale e lei frattanto si iscrive signor Podestà se potessi no ma Piscitello lei è impazzito si sono ex deputati e ministri che regalerebbero un occhio per iscriversi al fascio e purtroppo ormai sono conosciuti come buoi di fiera per democratici arrabbiati e pipini e non possiamo prenderli nella barca e anzi se non la smettono di brontolare dobbiamo mandarli al confino e lei si fa pregare ma chi crede di essere lei cosa fa ci sputa sul fascismo e sul duce e la smetta di sbadigliare signor Podestà sua eccellenza Mussolini è Dio e io sono con rispetto parlando merda ma mi sono sempre trovato bene a non far politica Piscitello arrivederci domani mi dirà se desidera rimanere al suo posto o cambiare mestiere Piscitello si alzò mogio mogio fece due inchini che nessuno vide perché il Podestà era preso la testa con le due mani e curvato a leggere le sue carte e uscì infilandosi per la prima volta nella vita due dita entro il colletto con l'intenzione di allargarlo la sera in casa raccontò alla moglie quanto gli era successo e che vorresti fare disse la moglie ti scrivi egli non rispose nulla fino a quando sbucciò meticolosamente la pera asciugò il coltellino nella salvietta lo chiuse e conservò in tasca Rosina disse poi io non sono fascista e lo diventi fece la moglie Aldo Piscitello non rispose nulla porse la pera sbucciata alla moglie si accese una cicca di sigaro e rimase a guardare con le mani intrecciate sulla tavola debuffate di fumo che gli uscivano tarde dalla bocca chi diavolo guardava con l'occhio destro dal sopraciglio rialzato e quale strano sogno gli passava nel chiuso occhio sinistro che pareva dormisse per quasi due ore restò così e non si avvide che la tavola era sparecchiata la lampada del soffitto spenta e sostituita da una piccola luce che veniva dal corridoio la moglie già in letto Aldo gridò lei vieni mettiti a letto devo dirti una cosa e gli arrossi vivamente come se la moglie lo avesse sorpreso ad assaggiare la pasta nella pignatta e compiuta in fretta le solite operazioni della sera fu presto sotto le coltri in fondo disse la moglie il fascismo è una gran bella cosa non dico di no fece egli che nei giudizi era sempre rispettoso ha fatto strade c'è ordine nessuno più disturba i galantuomini ti ricordi quando i comunisti ti fischiarono perché avevi in mano il pacchetto di dolci che non era nostro era del signor sindaco disse Aldo Piscitello mi piace come fa crescere i giovani guarda che i giovani vanno pazzi per Mussolini non dico di no non dico di no non dico di no ma io mi sono fatto sempre gli affari miei e ora non so che cosa vogliono con questo fascismo senti disse la moglie che cominciava a stizzirsi mille e mille persone meglio di te e di me dicono che il fascismo è una grande cosa e tu fai tante storie per diventare fascista oh io ne sono onorato ma vedi e il papa sai cosa ha detto il papa che quel uomo lo ha mandato la provvidenza ora se il papa che è vicario di dio in terra non ci pensa due volte e così continuò la moglie finché levandosi nella foga dell'eloquenza sul gomito destro si accorse che il marito dormiva piano piano ricadde supina e seguitò a ragionare per conto suo verso le due del mattino non potendo più resistere alla maligna esultanza che le dava la conclusione cui era pervenuta ragionando segliò il marito tu tu mi devi dire questo ti credi meglio del papa come che ma no il papa esclamò Aldo Piscitello nello spavento che gli incutevano di notte le idee del papa imperatori re dittatori ministri generali tanto simili per lui ai baratri profondi e tenebrosi nei quali non abita che il vento ma poi si calmò gli chiuse gli occhi e pian piano tra una bollicina di saliva disse domani mi scrivo al fascio dal 1930 al 1934 la vita di Aldo Piscitello per la sua liscia e compatta semplicità rimane impenetrabile non diremo all'occhio nostro ma anche a quello di un grande narratore e poeta sulla sua giacca nera sarà posato come un maggiolino il distintivo col fascio ed egli di tanto in tanto lo guardava torcendo gli occhi all'ingiù con un'espressione così ingannevole che chiunque avrebbe potuto dire lo ama gli piace lo odia lo spaventa lo infastidisce gli fa il solletico se lo gratta ora se lo toglie ora se lo mangia no se lo soffia uè che se lo bacia ma egli si accontentava di passarvi la manica a sinistra come per lucidarlo e riprendeva a scrivere sui registri nessuno riuscì a cavargli un giudizio politico dai denti adempiva scrupolosamente tutti i suoi doveri di scritto al partito come per vent'anni aveva adempiuto quelli di impiegato municipale indossava la camicia nera nei giorni comandati leggeva l'organo del partito frequentava il circolo rionale e nei pomeriggi del sabato imbrancato con gli altri visitava i musei pieni di luce bigia e sentiva ecceggiare i passi degli impiegati municipali nel marmo freddo delle statue sebbene in quel torno di tempo le teste degli italiani completamente rapate all'uso militare e drizzate su spalle irrigidite e protratte da giacche sportive cominciassero pian piano prima quelle dei giovani e degli atleti poi anche quelle degli anziani e professionisti e ben pensanti aspirare furore la faccia di Aldo Piscitello rimase sempre improntata a un'antica dolcezza per cui egli sembrava piuttosto il ritratto di un italiano ingiallito dal tempo che un italiano vero e proprio questa gentilezza di espressione dava nell'occhio del caposettore quando costui lo faceva veleggiare pomposamente dalla pedana del circolo rionale sull'uditorio in camicia nera voi camerata laggiù Piscitello si alzava col dolce e rispettoso sorriso che si fosse mai visto io sì voi il caposettore lo squadrava perplesso sentiva che quel uomo non andava bene e non faceva proprio al caso ma non sapendo in che cosa precisamente non andasse bene si accontentava di esclamare che diavolo fu messa una spia alle calcagna di Piscitello non perché gli fosse un personaggio preoccupante ma così per provare e anche perché c'erano tante spie che non sapevano come passare la giornata la spia riferì al Piscitello sette parole di carattere politico tutte piene di rispetto per il fascismo aggiunse che passando davanti alla fotografia di un metro e cinquanta per tre del duce posta ai quattro canti Piscitello soleva toccarsi la falda del cappello e infine con frase lievissimamente sospetta ma non di ordine politico citò la seguente detta da Piscitello a un giudice di tribunale se non mi aiutasse un poco mia suocera con lo stipendio le assicuro non riusciremmo a farcela era il 34 e in casa Piscitello si mangiavano ogni giorno due o tre cose in meno di quelle che sarebbero state necessarie a un uomo di 54 anni piuttosto magrolino a una donna che lavorava in casa e probabilmente anche fuori casa su questo Piscitello non aveva mai spinto lo sguardo e a tre bambini che avevano la fame della lupa di cui secondo il partito erano figli sicché quando si seppe che agli impiegati squadristi lo stato paternamente avrebbe regalato due mila lire Piscitello si sentì abbracciare così strettamente dalla moglie che poi rimase a tossire per un pezzo e che c'entriamo noi disse Piscitello accennando a se stesso ai bambini e anche alla moglie noi non siamo squadristi lascia fare disse Rosina come sei ingente nuo tu non sappiamo cosa abbia combinato quel demonio di donna ma venti giorni dopo Aldo Piscitello apprendeva che egli si era iscritto al partito nel 1921 che gli spettava di diritto la qualifica di squadrista e gli incombeva l'obbligo di fregiare la camicia nera con un nastrino rosso sembolo del sangue versato e fatto versare il giorno in cui la moglie lettando faville di gioia per le duemila lire già arrivate in casa e spalancate sulla tavola gli cucì sui polsi due filetti rossi la faccia di Piscitello aggiunse alla sua abituale espressione di mitezza un tratto molto strano egli soleva portare sempre la bocca chiusa e se gli toccava di parlare o sorridere faceva un piccolissimo spiraglio e quello stesso si affrettava a chiuderlo prima che l'ultima parola fosse uscita a tirar fuori la sua desinenza o il sorriso a sgorgare pianamente da quel momento continuò a portare sì la bocca chiusa ma vi aggiunse una certa visibile forza nel tenere unite le labbra con questa singolare espressione passò tutto il 34 e il principio del 35 i suoi discorsi già di poche parole si ridussero ad alcuni monosillabi ma i suoi atti e le sue abitudini per quanto silenziosi come quelli di una bestia casalinga divennero ineccepibili in ordine alla politica già in numerose fotografie di gruppi fascisti si vedeva la sua faccia sempre però con quella strana espressione tal suo nome figurava in alcuni album invidiati che avvolti in fasce tricolori venivano offerti da grosse ragazze impudenti a ministri e ispettori di partito e il podestà guardava a lui ogni volta che parlando agli impiegati diceva noi vecchi fascisti vere pellacce ed egli quel giorno stesso aveva risposto si come no a un amico che gli domandava se l'obbligo della divisa con gli stivali fosse o no sacrosanto e poco dopo aveva fatto una smorfia non diremo di approvazione ma vagamente umida di un consenzente sorriso a proposito della persecuzione contro gli ebrei iniziata in Germania quando la sera quest'uomo mite questo 53enne magro e taciturno compi un atto ecco cosa fece giunto a casa e visto che nessuno dei suoi era rientrato si strappò il distintivo dalla giacca ci sputò sopra due volte lo buttò a terra e lo pestò quindi così spiaccicato com'era e ridotto a una blatta lo sollevò di nuovo e lo tenne davanti agli occhi ma per poco lo gettò nell'orinale e vi pisciò poi con un legno lo tirò fuori lo pulì con acqua e sapone lo aggiustò almeno peggio e se lo rimise all'occhiello quando la moglie e i figli rincasarono Aldo Piscitello stava seduto in un angolo della saletta da pranzo fermo silenzioso con lo sguardo fisso e solo il petto che gli andava su e giù proprio come un volatile in preda all'affanno della febbre che ha pensò la moglie strappandosi di nascosto con l'orso della mano il carminio dalle labbra vieni qui Maria disse alla figlia maggiore che si avvicinò aggiustandosi sui due grossi pomi che la bianca giubba di giovane italiana le stringeva e molestava con dolcezza la barcollante M di legno che hai fece la moglie Aldo Piscitello levò gli occhi sulla moglie e la figlia tirò in giù le labbra come la corda di un arco quanto siete brutte disse da questo momento preciso la storia di Aldo Piscitello cambia totalmente e pare la storia di un altro che diamine gli avevano fatto a quest'uomo mite che non sarà mai occupato di politica che non aveva grandi ideali né ambizioni né bisogno di spazio e libertà per i suoi progetti in quale punto segreto lo avevano toccato e così senza parere come aveva potuto la società in cui egli viveva stringerlo per il collo sino a farlo starnazzare come un pollo che ha capito improvvisamente le intenzioni della mano che pareva accarezzarlo non sappiamo rispondere certo è che dopo le sue parole madre e figlia si guardarono intorno come a cercare il torvo sconosciuto che si fosse introdotto nella loro casa per insultarle ma non c'era nessuno e con pena e stupore e spavento dovettero convenire su questa realtà strabiliante l'autore di sinefande parole era proprio il loro padre e marito e nessun altro che lui il garbatissimo uomo che aveva sempre detto sì come no e la mattina pulendosi le scarpe disputava piano piano per non svegliare la famiglia e il cui solino posato la terra sul canterano pareva liso dai tanti sorrisi che vi erano colati durante il giorno dalla bocca chiusa in giù per il collo dolce e macilento ma di tali sorrisi da quella sera in avanti non rimase che il ricordo l'odio il più forsennato e cieco odio si impadronì di Aldo Piscitello era una passione talmente sproporzionata si ficcò in lui con tanta difficoltà come un vento tempestoso e lungo chilometri in un paio di mutande che il piccolo uomo farve cicolare e cricchiare da ogni parte non riuscì più a stare fermo inquieto composto a chiudere completamente la bocca a introdursi tutto nel sonno anche dormendo gli cascavano di bocca alcuni bestie e cornuti piani in verità e tutti fiato ma con qualche goccia di saliva sulla fine che andava a bagnare il guanciale o sulla spalla di Rosina per le strade accanto a lui all'altezza della sua spalla c'era sempre la sua mano destra che disapprovava faceva segno di no ma andava all'inferno in un tempo in cui tutti erano superbi e ottimisti anche il violino nella stradetta solitaria provava cadenze di marcia i bambini nei sesti piani vicino alle nubi imparavano gli inni inni mugolava a tavola fra un boccone e l'altro il professore sessantenne che non aveva mai cantato l'ubriaco di notte ruotando con le spalle a un fanale rantolava domeremo il mondo e notte e giorno ai balconi cicolavano le bandiere Aldo Piscitello fece risuonare dei suoi ma pieni di sconforto alcuni grandi portoni davanti ai quali soleva passare l'incasando alle cerimonie politiche andava come prima e forse con maggiore assiduità vi andava aggricchiando le spalle come se soffocasse il penoso e piacevole brivido che tutto lo faceva tremare eccolo nella sala del circolo rionale egli era ormai a poca distanza dagli oggetti del suo odio poteva quasi strofinarvi gli occhi e il naso era stretto da ogni parte con l'abbondanza dei sogni e degli incubi come attraverso una lente smisurata egli era in grado di vedere quanto fossero imbecilli quanto fossero balordi quanto fossero prepotenti a destra e vigliacchi a sinistra quanto scavezza colli corti malpartoriti sconci per lui era di un gusto inaudito potere strisciare accanto a un vice segretario federale dicendogli mentalmente gran coglione e mentre quello si piantava in posa statutaria e sollevava col respiro come un'ampia mammella il mucchio dei nastrini medaglie medagliette teschi pugnali Aldo Piscitello a un passo da lui con la faccia umile e magra gli diceva mentalmente ladro ladrone di passo sì ladro nelle adunate estive la sua gioia toccava gli estremi limiti perché ai soliti piaceri se ne aggiungeva un altro di natura olfattiva egli li sentiva puzzare come capre sotto il pesante orbace oh le bestie diceva fra i denti passando da un punto all'altro per confrontare il tanfo del segretario politico con quello del segretario federale amministrativo le bestie il 28 ottobre anniversario solenne della marcia su Roma si alzava di buon mattino e si concedeva un diletto singolarissimo ritirandosi nella più piccola stanza della casa accendeva un sigaro Roma e lo fumava lentamente guardandosi da ogni parte la mano che teneva il sigaro fra l'indice e il medio una gran calma era nel suo occhio destro e più del sinistro l'immobile naso pareva immerso nell'aria come il gambo di un fiore nell'acqua silenziose buffate esalavano dalla sua bocca era la vita che si occupava sbadatamente di lui più che di lui di vivere finché non suonavano le otto all'orologio del palazzo degli studi spento brutalmente il sigaro Aldo Piscitello saltava in piedi lasciava lo stanzino e correva nella camera da letto qui senza riguardo alcuno per la moglie che dormiva spalancava le imposte e si dava a rovistare nel canterano cosa cerchi si può sapere diceva la moglie passandosi le mani sulle guance frattanto Piscitello aveva tirato fuori da un mucchio di roba bianca una sorta di cencio funerario era la camicia nera ti amine rosina è sporca questa camicia chi l'ha sporcata così io non lo so davvero solo dopo un poco Aldo Piscitello si ricordava che la sera dell'ultimo sabato fascista prima di conservarla ci aveva ballato sopra vuoi che te la stiri di ferro diceva la moglie no rosina ti prego sta a letto lascia fare a me voleva fare tutto lui e nessuno s'azzardava di contraddirlo lui infatti accendeva il ferro lui stirava la camicia lui la spazzolava voleva essere solo eseguendo queste rapide operazioni perché pare che masticasse alcune strane parole già aveva indossato la camicia e la moglie e i figli lo vedevano passare e ripassare in mutande bianche e camicia nera con in mano i pantaloni alla zuava andava su e giù cercando con gli occhi un luogo conveniente e masticando sempre meno ad agio le sue strane parole finalmente trovava questo luogo nella saletta da pranzo fra la credenza e una parete qui sedeva su uno scabello basso e levando in aria le gambucce stecchite le profondava nei pantaloni alla zuava dopo averle cacciate più avanti che potesse annodava i laccetti sugli stinchi ma non era ancora finito anzi il bello cominciava ora davanti a lui si drizzavano gli stivali come dicendo qui ti voglio squadrista del malaugurio rosina strillava allo piscitello ormai incapace di combattere da solo e tu maria figlia della lupa aiutatemi madre e figlia si precipitavano dai letti gli si inginocchiavano davanti e si sforzavano di calcargli lo stivale spingendolo per il tacco mentre lui afferrato ai tiranti faceva forza sino a scoppiare ma lo sforzo di tutti e tre riusciva vano ed egli si abbatteva gridando chiamate il portiere non siate buone a nulla ma il portiere fiduciario di un circolo orionale l'unica persona dell'edificio che possedesse un calzastivali era andato al piano di sopra ad aiutare il presidente del tribunale che grasso com'era si spremeva tutto e riduceva con le lacrime agli occhi prima di essere pronto per l'adunata con l'aiuto di dio Aldo Piscitello riusciva a mettersi in piedi e indossata la giacca d'orbace si affibiava il cinturone di cuoio sulla pancia magra poi andava allo specchio mentre la moglie con un sospiro diceva alla figlia cerca lo strofinaccio non era mai accaduto infatti che dopo aver riflesso il proprio padrone che dopo aver riflesso il proprio padrone indivisa lo specchio non rimanesse con uno scaracchio sulla superficie una sorta di pendaglio scivolante qualcosa che sciogliendosi a mano a mano faceva sì che lo specchio sembrasse ridere malignamente o il diavolo sa come piangere il presidente del tribunale incontrando per le scale Aldo Piscitello che era squadrista lo salutava per primo alzando la mano flaccida e gialla al di sopra della testa e Piscitello gli cedeva il passo per godersi lo spettacolo di quell'uomo carnoso addentato palpato e messo in mostra dai violentissimi cuoi che lo cingevano ma questo spettacolo non era il solo che si godesse in quel giorno memorabile professori di università vecchi signori cadenti giovani in verità molto grassi ormai li conosceva uno per uno e se non li incontrava per il corso andava a cercarli nei caffè in cui solevano recarsi o addirittura nei vicoletti i piedi gli dolevano mortalmente e gli specchi dei negozi sembrava gli passassero davanti ad arte per mostrargli continuamente quel se stesso in stivaloni con la faccia verde sconcertata sicché egli si annusava l'alito nella palma della mano e doveva convenire che il fegato non gli andava bene ma pazienza purché rincasando potesse dire come siamo deformi bontà divina altro che popolo guerriero sì esclamava la moglie sarcastica infatti non è vero che l'altezza media degli italiani è cresciuta di un centimetro da quando c'è il fascismo non è vero non è vero gridava egli per te non dicono la verità nemmeno per il sbaglio no mai quello che dicono loro non è vero mai disfattista urbalava fra i denti la moglie quello che dicono mi fa schifo mi nasconderai sottoterra per non sentirli ma frattanto quello che essi dicevano glielo dicevano sempre più forte sempre più dentro l'orecchio le radio dei vicini erano sempre aperte facendo tremare nei bicchieri nelle caraffe nei vetri dei balconi e della credenza i loro evvive battimani e credere obbedire combattere e i negozi essendo scoppiata la guerra etiopica avevano collocato i megafoni dei loro apparecchi sui balconi sicché le strade parevano tunnel scavati entro gli imperiali urli fascisti e comandamenti incitamenti sferzate contro di lui e quelli come lui teste di potenti gli entravano in casa coi calendari reclam il giornale i quaderni e i libri dei figli impazzirò disse egli no fece la moglie tu sei già pazzo il 36 e il 37 furono gli anni più neri per Aldo Piscitello si sentiva solo come una mosca in gennaio e aveva paura di passare in quei punti del Marsachiede dove l'ombra tempestosa delle bandiere pareva scavare dei vortici fu allora che l'avvocato padalino ex democratico e mai iscritto al fascio gli disse caro Piscitello hanno ragione loro non vede che vincono e ragioniere capo che una volta aveva sputato sul ritratto del luce una sera tornando da un viaggio a Roma lo chiamò in disparte e gli confidò questo nuovo berretto con la visiera gli si adatta proprio bene è stato per me una rivelazione al profilo della vecchia razza latina non c'è che fare e il vecchio farmacista Platania reduce dal confino nelle passeggiate a due per le stradette solitarie si torceva a destra e manca il pizzo brizzolato e gli mormorava prudenza prudenza signor Piscitello non parli così alto una sera la moglie sperichò in fretta gli si sedette di fronte poggiò le braccia con sette sulla tavola il petto sulle braccia e gli disse sentiamo un po' che ti ha fatto di male il fascismo allo Piscitello arrossì come chi si trova all'orlo di un piacere inaudito mille impulsi gli affluirono alla mente la memoria gli presentò tutte le parole possibili perché gli parlasse parlasse fino al domani non smettesse più di parlare ma in verità quando venne al fatto non trovò che questi argomenti tutte le cose antipatiche le fa lui i cantanti nei teatri non possono concedere il bis ci ha tolto il piacere di prendere una tazza di caffè dobbiamo darci tutti quanti del voi e un superiore sbarbatello a me anzi può dire tu 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 e gli riprodusse tutte le intonazioni offensive con cui gli davano del tu ai ragazzi insegnano a cantare dalla mattina alla sera come se fossimo a teatro a noi insegnano invece l'educazione o che so io dobbiamo salutare alzando la mano come se ci riparassimo da una bacchettata o da uno sputo infine dobbiamo mettere gli stivali ci fu una pausa tutto qui fece la moglie Aldo Piscitello si sentì confuso abbassò gli occhi sulla tavola poi li rialzò pesanti di tutte le cose che avrebbe voluto dire dovuto dire ma che non sapeva dire perché un canto di Milton o di Leopardi sulla libertà o il libro di un filosofo proibito non volò in soccorso di questo pover uomo tradito da tutte le sofferenze che un'anima onesta può ricevere dall'oppressione e tuttavia incapace di dire perché soffrisse così una donnetta educata nei corsi per massaie rurali ebbe ragione di lui e rimase a ridergli in faccia lievemente egli sentì di essere barbaramente abbandonato dalle cose alte per cui soffriva pene acerbe e uscì sul balcone a guardare il cielo le stelle pulissime e chiare così diverse dagli occhi torvi e limacciosi dei gerarchi gli dissero che aveva ragione lui ma questo lo incoraggiò fino a un certo punto e se infatti non aggiunsero perché avesse ragione fortunatamente passava una serenata e questa gli provocò un lampo nel cervello non abbiamo più musica gridò entrando nel balcone una volta si facevano tante belle opere aida la traviata la butterfly la vedo allegra nessuno fa più musica e perché non la fanno disse fredda la moglie chi glielo vieta perché non la fanno e gli si ficcò le unghie della destra nella palma della sinistra se la sentiva su tutta la pelle la ragione per cui nessuno sapeva fare più musica ne tremava e rabbrividiva come di un sudore freddo ma non sapeva dirla la notte morse il cuscino laccerò la fedra e andò a finire con le labbra tra i fiocchi di lana brutta notte egli se ne vendicò un anno dopo durante la guerra di spagna svegliando la moglie che la sera avanti aveva battuto le mani a una radio che proclamava il bombardamento di valencia e tu sei cattolica e tu sei cristiana e tu ti fai la croce e baci il cuore di gesù tu che vai in sollucchero per il bombardamento di una città dove ci sono bambini donne meglio di te e ammalati la moglie finse di non averlo sentito verso l'abba gli rispose l'importante è che vinciamo ora si ci mettiamo a far complimenti scommetto aggiunse poi levando a sedere sul letto il proprio corpo come uno stendardo di vittoria scommetto che a te non piace che l'italia vinca e si levò a sedere accanto a lei e ficcandole gli occhi negli occhi si disse hai detto la verità non mi piace che l'italia vinca e perché ah come al solito Aldo Piscitello non lo sapeva ma sapeva che un perché c'era e scintillava di notte sul mondo come un cielo stellato e splendeva di giorno come il sole afferrò allora il mento della moglie e facendole una moina infernale accosto accosto sino a fregarle il naso sul naso coi denti stretti e le labbra spalancate si labò perché non mi piace pagò caramente le smodatezze di quella notte perché l'antica sbadigliarella sopita per alcuni anni tornò a stringergli le guance con questo di nuovo che ora gli sbadigli non giungevano a compimento ed egli rimaneva a boccheggiare per alcuni minuti come un pesce tirato sulla sabbia il colloquio con la moglie lo riprese bruscamente cinque sere dopo con le seguenti parole io uscivo pazzo per l'italia quando sentivo la marcia reale mi veniva sempre da piangere ma questa aggiunse con un tono insolito non è l'italia questa è un pugno di mascalzoni che vuole versare il nostro sangue per opprimerci ancora di più se quest'italia vince gli italiani perdono la la ma il quince un po e voltandosi cautamente di fianco come uno scolaro cercò di gettare lo sguardo nei fogli che teneva dentro la palma e nel quale aveva copiato alcune parole sentite al caffè ah bene esclamò la moglie impari la lezione e gli arrossi fino alle orecchie beve un bicchiere d'acqua stracciò quel foglio e altri che aveva in tasca e si immerse in una ventina di sbadigli uno più faticoso dell'altro la moglie ne ebbe pena ma che hai ma che cosa ti manca gli domandò Aldo Piscitello si agitò un poco frugò nelle tasche come cercando i foglietti che aveva stracciato poi parve a sottigliarsi e fissò la moglie con quell'aria di povera bestia malata nella quale si rannicchiava tremolando allorché gli mancavano le parole per rispondere così passarono altri due anni che cosa abbia fatto in questo tempo Aldo Piscitello io non lo so mi mancano molte notizie e mi mordo le mani posso dire solo questo che il suo odio si fece sempre più ardito e perfetto le sue parole più impacciate e insignificanti e i suoi sbadigli più lunghi credo che anche egli fosse in piazza Venezia quando Mussolini domandò agli squadristi se amassero la vita comoda e quelli appunto perché l'amavano teneramente e non volevano essere incomodati dai questurini risposero con un urlo no non l'abbiamo la vita comoda vogliamo la guerra ci piace star male quello lì mormorò un vecchietto in orbace e decorazioni accanto ad Aldo Piscitello indicando il balcone del palazzo era magro quando venne la prima volta a sfruconarci e il popolo italiano invece stava bene ed era grasso ora lui è grasso e il popolo italiano è magro sante parole disse Aldo Piscitello ma qui di nuovo lo perdo di vista e lo ritrovo nella mia città dentro lo scabuzzino di una farmacia mentre un signore in camice bianco pizzica la chitarra e canta in te rapito al suol della tua voce lungamente sognai e due altri signori anziani si torcano dalla delizia così seduti come sono facendo perno su una guancia appoggiata al manico del bastone come erano belli quei tempi dice uno cortesia gentilezza rispetto degli altri la musica l'amore la patria gioventù studio Francia dolce Francia e tu Italia il mio compagno che si uccide per una donna che ci hanno messo nel cuore dice l'altro buio questa parola fa alzare Aldo Piscitello rapito dalla sua verità sì mormora col fiato buio nel cuore e poco tempo dopo quando i giornali e la radio ordinarono l'oscuramento e le lampade delle strade si ridussero ciascuna a una favilla rossa con un nastrino di barlume azzurrognolo e si spensero le icone cancellando madonne e cuori di Gesù dalle mura di lavagna e si spensero le cappelle funerarie chiudendo totalmente il buio a quelli che vi sono immersi per sempre e imbrunirono le scale gli abbaini e un sol raggio che gemesse da un balcone sottile come uno spillo suscitava grida di scandalo e paura quando la città parve un mucchio di carbone umido e dei passanti si videro sia noi piedi fiocamente illuminati da arnesi tascabili o la bocca nei momenti in cui svampava la sigaretta e il signor Castorina cieco dall'altra guerra che usciva ogni notte alle undici tastando il terreno col timido bastone cominciò a camminare spedito festivo sicuro come se il mondo ormai fosse suo e i nottamboli cercarono in vano con gli occhi sulla nera piramide della chiesa l'antico orologio della gioventù che tante volte li aveva ammoniti sull'ora tarda o avvertiti che fra cinque minuti il portone di lei si aprirebbe e un modesto e laborioso cittadino vestito di bianco fu nero come un gerarca vestito di orbace Aldo Piscitello si affacciò al balcone e disse buio nel cuore e buio fuori così va bene e dopo dopo cosa disse e fece sinceramente non lo so dei due amici che gli furono accanto in questo primo tempo della guerra l'uno un tipo gioviale non può dirmi nulla perché l'anno scorso gli si rovesciò addosso dal camion alla garitta del portinaio la casa ha tre piani e sarà messa su amorosamente pietra per pietra chiodo per chiodo quadretto per quadretto e più cose aveva comprato e amato e più gliele caddero in testa e l'ultimo biglietto che lasciò tra le macerie non è affatto gioviale ne dice nulla che riguardi Biscitello limitandosi a queste quattro parole a matita muoio dopo cinque giorni dell'altro so che due anni fa avanzandosi in Egitto verso Alessandria era interamente coperto di pidocchi e bestemmiava anche nelle cartoline adesso è prigioniero e io aspetto che ritorni per invitarlo a cena dargli da bere e farlo parlare saprete allora perché io certamente mi affretterò a riferirvelo che cosa fece Aldo Piscitello quando la città regalò i pugnali agli squadristi volontari che dal palco scenico del teatro guardavano smarriti nella sala quei figli di cane dei fascisti semplici che sarebbero rimasti tranquillamente a casa mentre loro ma parecchi di loro a ogni buon conto badavano a tossicchiare a pizzicarsi lo stomaco e avevano come suol dirsi il settebello già incassato perché erano già d'accordo con l'ufficiale medico che li avrebbe dichiarati inabili alla guerra o quando ai tre notturni lamenti della sirena milioni di brave persone taluni con le scarpe in mano lasciavano i letti e facevano resta nei ricoveri come formiche che si rintanino mentre nel cielo scorrazzavano lugubremente una ventina di giovanotti con le giubbe di camoscio so questo però nonostante Aldo Piscitello avesse una gran paura degli allarmi e corresse primo nel rifugio con un bambino in braccio e la moglie dietro che gli portava le bretelle tuttavia diventava rosso come un tacchino quando gli dicevano che le bombe inglesi si erano prese l'umido nelle cantine di Malta e non scoppiavano che gli operai scaricavano fuori dalla città non per cortesia ma perché temevano i cannoni e non sarebbero stati simili paurosi con simili armi a vincere il fascismo che il mondo sarebbe stato tutto fascista non c'era nulla da fare un giorno per la strada il segretario federale facendo le ruote col mantello nero che battuto a destra e a manca lasciava lampeggiare ora a destra e ora a manca i sottostanti a ramari e decorazioni posò l'occhio su Aldo Piscitello proprio nel momento in cui pensava Dio sa che cosa sul duce e se stesso sebbene quell'occhio avesse guardato senza vederlo anzi proprio per questo parve a Piscitello che quell'occhio parlasse e le prime parole furono che sei tu strana cosa posata sul marciapiede prima che io possa darti un nome qualunque e finalmente vederti devi riunirti a centomila cose come te vestite tutte allo stesso modo stipate in una piazza e allora se getterete un urlo un buon urlo un urlo come si deve allora sì allora andrà benissimo allora certamente Piscitello rimase fuori di sé per tutta la giornata e la notte essendosi pesantemente levata dal mare la luna piena telefonò dalla casa del vicino Aleffi all'amico Platania reduce dal confino senta Platania se ne vengono stasera alludeva gli aeroplani sono dei fessi ma se c'è una luce che pare di giorno quando vogliono venire allora e quest'uomo ha dei figli mormonò inorridita la moglie del vicino ascoltando dall'altra stanza le parole di Piscitello l'indomani questa signora confidò il suo orrore alla signora Rosina mi lasci stare signora mia rispose da Piscitello quante ne ho viste e non fosse il padre dei miei figli pregherei Dio che lo legassero mani e piedi così vecchio com'è e lo buttassero in prigione e una domenica al Piscitello corse veramente il rischio di finire in prigione erano cadute cirene Tobruk Bengasi prungevano i tedeschi in Sicilia le navi traghetto beccheggiavano nello stretto di Messina irte di tedeschi armati e fermi coi binocoli agli occhi le terrazze della mia città parevano graticci di fichi bianchi zeppe come erano di tedeschi nudi che prendevano il sole e ai balconi dei primi piani stavano pesi piccoli specchi guardandosi nei quali tedeschi in calzoncini si radevano la barba mentre nella via sottostante davanti all'umida rimessa oi dormivano i bersaglieri una vecchietta si fermava per dire a un sergente dalla faccia di carcerato e tu figlio la barba te la fai solo la domenica gli ufficiali alloggiati nell'albergo principale avevano ricevuto istruzioni dai loro superiori perché ascoltando in piedi il bollettino del quartier generale mostrassero un viso fiero e sicuro tale da incoraggiare la povera gente raccolta davanti alla radio se non che questi ufficiali sebbene con gli occhi immobili si accorsero che più amare erano le notizie del bollettino e più numerosi nella sala i sorrisetti subito repressi gli ammicchi le pestatine le gomitate e davanti al banco del bar subito più folto lo stuolo degli amici che bevevano toccandosi il bicchiere e alzandolo con un occhio socchiuso come sono curiosi gli italiani pensavano gli ufficiali tedeschi rompendo col passare da un punto all'altro della sala come nere stelle filanti gli sguardi di odio che gli avvolgevano per voi maledetti dobbiamo fare questa guerra prontolò una domenica Aldo Piscitello non ne avete a bento voi? certo come no che vuol dire? tutti gli uomini si faranno comandare da voi figli di cameriere che non sapete chiudere una porta con garbo anticristi massacratori dei polacchi e di quei poveri ebrei che sono onesti lavoratori e basterebbe a dirlo il dottor Bologna che non si fece mai pagare dagli impiegati del municipio e ora si è dovuto buttare in mare con le tasche piene di sassolini come un cane o la mazzera volle la malasorte che in quel momento una spia fotografasse di nascosto la sala sviluppata e ingrandita la fotografia mostrò l'avvocato Rossi che ancora sorrideva e strizzava l'occhio per le cattive notizie trasmesse dalla radio e poco discosto Piscitello che guardava un tedesco alzando il mento a sinistra e gettando fiamme dalle narici l'avvocato Rossi fu mandato al confino ma quanto ad Aldo Piscitello la commissione di disciplina non sapeva a quale consiglio attenersi l'espressione di quel viso risultava veramente assai strana ma era proprio di odio o non per caso di malessere chi poteva assicurare che non fosse dovuta a due o tre sbadigli falliti sul nascere in ogni modo la commissione pregò il podestà che era un giovane di fede o come soleva dirsi a quei tempi un uomo nuovo di sospendere Piscitello dallo stipendio per un mese e un giorno di fatti quel giorno Piscitello non aveva alcuna voglia di parlare ma era stato costretto a dire due volte con voce risentita ma flebile qua lavoro io prima a un grosso signore semiceco poi a un vecchio mingerlino che gli erano entrati nella stanza dandosi il da fare di chi arriva finalmente nel luogo di comando e qui lavoro io lo sapete aveva ripetuto all'uscere birbante che forse era lui a mandagli si fatte persone nella stanza quando lo stesso uscere con un sorrisetto amaro gli annunzò vi vuole il podestà qualche brutta notizia pensò Aldo Piscitello che dal 1930 non era più entrato nel gabinetto stile impero cautamente come un gatto che entri da sconosciuti si introdusse Piscitello nel vasto salone in fondo al quale lo attendeva il podestà in divisa di squadrista ritto in piedi dietro il tavolo a fianco del tavolo stava in piedi un ispettore federale anche lui in divisa nera con un teschio d'argento sul braccio e una testa di Mussolini sul petto tutti e due tutti e due questi personaggi ritti fissavano Piscitello col mento levato ed egli si avanzava piano piano sbagliando fin anche direzione perché la paura pareva averlo preso per le spalle e spingerlo a forza verso il balcone invece che verso il tavolo è un traditore risuona tutto un tratto era la voce del podestà chi ti ci ha portato all'albergo centrale la mattina della domenica una di questi giorni aggiunse forse l'ispettore diciamo forse perché la sua voce era così rauca da non far capire se egli parlasse o raschiasse con la gola mi ricordo i bei tempi spedizione sorbe randellate a una di voi pelle si la pelle se ci capita un'altra volta io stesso con le mie mani ti butto fuori dal municipio aggiunse il podestà e detto questo con un giro sui tacchi si volse a destra verso l'ispettore che girando sui tacchi si volse a sinistra verso di lui il podestà e l'ispettore si rischiararono in volto dimenticando completamente Piscitello e si misero a parlare del duce dell'asse della vittoria dell'impero dello spazio vitale della razza dei turni di avvicendamento del corpo dei guastatori da poco istituito di quello dei moschettieri del duce istituito da molto tempo così chiacchierando attraversarono il salone e giunsero fin presso la porta Piscitello stava per addormentarsi in piedi sfinito dalla paura dalla sfiducia e dallo sconforto quando un suono come di schiaffi ma in verità di gambali e tacchi lo svegliò i due saranno irrigiditi l'uno di faccia all'altro mento contro mento il braccio levato in alto avventandosi l'un l'altro negli occhi uno sguardo da avvoltoio ma poi si sciolsero sorridendo l'ispettore uscì e il podestà tornò dietro il tavolo Piscitello seguiva il podestà pissandolo tra gli stivali e il cinturone ma quando osò guardarlo in viso dove ammettere che stava succedendo qualche cosa di diabolico la grinta del podestà si squagliava rapidamente come la cera al fuoco un sorriso che pareva un vecchio e ben noto sorriso gli affiorava dalle labbra l'occhio sinistro gli si piegava in un segno di intesa e la stessa orecchia sinistra respinta indietro dalle grinze di quel sorriso si mosse e salutò amichevolmente Piscitello sciocco disse il podestà con voce bassa e mutata ti fai cogliere in castagna come un bambino e sorvegliati diamine la sconfitta non può tardare di chi tartagliò Piscitello quasi asfissiato dal timore di comprendere come di chi la nostra vuoi che il mondo si faccia battere da un popolo in stivaloni e da un esercito senza scarpe il podestà invitò Piscitello a sedere nel divano accanto a lui e gli confidò che odiava il fascismo il municipio il ministero degli interni l'impero se stesso in divisa ma tu non lo dire a nessuno oh signor podestà esclamò Piscitello levando le mani e quasi inginocchiandosi poi parlarono del colonnello Stevens che secondo il podestà si esprimeva come un angelo e secondo Piscitello non era un colonnello a lui non la facevano ma un generale che non voleva confessare di essere un generale e ricordando le sue battute si agitarono in tal modo che stavano per abbracciarsi come diavolo sarà fisicamente il podestà lo immaginava alto e bruno Piscitello biondo e tarchiato il podestà un po' brizzolato Piscitello un po' calvo il podestà sposato Piscitello sposato con tre figli il podestà ricco Piscitello non molto ricco il podestà elegante in abito borghese e trascurato in divisa Piscitello sempre in divisa quando improvvisamente via di qui tuonò il podestà via subito si era adrezzato in piedi e gli indicava con il braccio teso la porta dove era apparso il segretario generale con una cartella in mano via fuori Piscitello si alzò più morto che vivo e lottando stentatamente contro la paura che lo aveva riafferrato per le spalle e lo cacciava al solito verso il balcone raggiunse la porta varcando la quale sentì il podestà urlare ancora e voi segretario sospendetelo per un mese dallo stipendio Piscitello si ammalò la sera stessa sono tutti gli stessi mormorava strofinando sul cuscino la guancia infuocata ha voluto farmi parlare e come farò senza lo stipendio di questo mese se non che l'indomani venne a visitarlo il podestà in persona e pregò la signora ai bambini che stavano a guardarlo come il tesoro di Sant'Agata e la signora anzi diceva io signor podestà ho sentito la vostra bella conferenza sull'impero di lasciarlo solo con loro babbo e marito Piscitello esclamò il podestà non appena la porta fu richiusa ma che sai un bambino non hai capito che dovevo fare così perché era entrato il segretario generale che è una lurida spia Piscitello non aveva più forza per ripassare dalla paura alla gioia e si accontentò di toccare con la sua mano pallida una mano del podestà quanto allo stipendio disse questi permettimi che te lo rifonda io di tasca mia e posò una busta sul ribaltino del comò e via Piscitello per Dio guariamo al più presto il podestà abbassò la voce gli americani sono sbarcati in Africa ammi i calzoni gridò Piscitello alla moglie mi voglio vestire quando le bombe e gli scoppi cominciarono a entrare in città e si scavarono baratri là dove nei pomeriggi d'estate sedeva Gaia la gente ai tavolini di Vimini e passeggiavano gravi e pacifici vecchi col bastone appeso al gilet quando i santi del cielo si affacciarono per le volte squarciate dei templi sulle proprie immagini senza naso o braccia e una grossa campana volò con un urlo lugubre quasi chiamasse aiuto contro i diavoli che la rapivano volò su strade e piazze e cadde nel mare quando la trave del palazzo del governo che sporgendo appena da una parete del salone aveva visto ballare il segretario del partito e il ministro dell'educazione andò ad abitare nel casotto buio di un portinaio schiacciandone per sempre da lì e da ogni altro punto della terra i suoi quattro poveri inquilini quando lo specchio relegato da trent'anni nel corridoio oscuro per terra a veder passare qualche piede in pantofola restò issato nello spazio libero a specchiare il sole la luna e la rondine che quasi dentro vi precipita quando nei balconi inaccessibili poggiate alle ringhiere si videro affacciate solo le imposte quando insomma il diavolo mise le corna per tutto Aldo Piscitello insieme a tanti altri fuggì ad abitare in un piccolo paese dell'Etna egli si alzava alle tre del mattino e scendeva a piedi in città per apporre la firma nei registri del municipio e questo diceva un collega guardando da un balcone alla città deserta è caduto stanotte ieri se non sbaglio stava su alle undici Piscitello lasciava la città e a piedi sotto il sole che rompeva le pietre insieme a una processione di povera gente coi fazzoletti legati al collo le giacche in mano e anche le scarpe e le calze risaliva verso il paese dell'Etna fu allora che il popolo della mia terra incolpevole mansueto dimagrì in un batter d'occhio e la vecchia isola parve nitrire mestamente come un cavallo che non conosca più dal peso che ha in groppa il suo antico signore il 9 luglio Piscitello si ammalò di tifo per due giorni ebbe la gioia di riposare le gambe indollenzite dalle marce e conversare la sera con un medico molto a modo che gli sedeva il capezzale per riferirgli piano le notizie di radio londra e ogni tanto sollevava una natica e infilava nell'aria qualcosa che poi faceva dire alla signora sarebbe bene aprire qualche volta dottore implorava Piscitello stordito dal mal di capo dalla febbre e da una felicità rabbiosa come la febbre glielo dica lei a mia moglie che quel uomo ci ha rovinati e che bisogno c'è che lo dica io rispondeva il medico basta affacciarsi e guardare la moglie stava ritta e muta davanti al letto fissando la testa calva del marito arrossata dalla febbre sì è inutile che mi guardi diceva egli ci ha rovinati lo dirai a tutti non me ne importa del confino e del carcere ci ha rovinati si è bevuto il nostro sangue non gridi signor Piscitello consigliava il medico le fa male ma ora verranno gli inglesi e gli americani e gli daranno tanti 5 e 55 da levargli l'appetito gli calerà il naso ai gerarchi furono le ultime parole chiare e ordinate che egli disse perché dopo si impadronì di lui il delirio e non vide o almeno vide come in sogno che lo portavano all'ospedale di Giarre e qui lo abbandonarono tutti purché le mosche che piovero e rotolarono sul suo lenzuolo umide e fitte come un mucchio d'uva passa migliaia di mosche stavano notte e giorno su di lui alzandosi rabbiose per un istante quando egli si voltava ma subito tornando a calzarlo dalla fronte ai piedi e ne camminavano sulla testa calva e sul naso alcune gli giungevano fino all'orlo dell'orecchio e volevano entrare ma poi si accontentavano di bagnargli una zampetta alcune si introducevano nell'orecchia suscitandogli un desiderio di sternutire e di ridere che gli torceva la faccia come un morso di cavallo proprio questa smorfia fece dire a un medico il solo che passando di corsia per quella stanza gli gettasse uno sguardo il signore mi pare che ci saluti i colpiti gli squarciati mutilati dalle bombe riempivano le sale accanto e i pochi medici dell'ospedale non avevano tempo di badare a quel vecchietto privo di ferite mancava la garza mancava il cotone idrofilo non sapevano i poveri medici come spiegare ai feriti che avevano commesso un atto spaventosamente leggero una monelleria fuori posto da pagarsi coi più atroci dolori a non morire subito tra le rovine come tanti loro compagni finalmente una bordata dal mare mandò ruzzoloni quel miserabile carnaio e Aldo Piscitello con una leggerissima ferita alla fronte fu trasportato di nuovo a casa nel paesino dell'Etna e restituito ai suoi che già lo piangevano morto ma egli guarì malignamente guarì ad era al balcone quando un'armata straniera scorreva per le strade di tutte le città e i paesini dell'Etna sui carri carri armati fusti di cannone auto motocicli trattrici furgoni furgoncini e il frastuono e il rotolione andavano al cielo al mare sotterra scacciando gli uccelli dai boschi i topi dalle chiaviche confinando sulle tegole i gatti digiuni Aldo Piscitello salutava i soldati seminudi e di pelo rosso alzando l'indice e il medio credeva che tutti lo conoscessero per averlo visto davanti alla tromba della radio con l'orecchia tesa alla voce di Londra voleva chiedere notizie del colonnello Stevens e di Candidus ma i soldati rispondevano piuttosto che a lui a coloro che stavano a destra a Manca sopra e sotto di lui al parroco ai bambini al farmacista a Rosina a un vecchio agli orfanelli del sacro cuore e perfino a una spia che soleva togliere le tegole dai tetti per incastrarvi la guancia e ascoltare i discorsi che si facevano in casa ma i soldati questo non lo sapevano e comunque Piscitello era contento che tanti sguardi di uomini liberi si posassero sulla casa sbattendo sul muro che ancora portava scritto a lettere grandi come balconi solo Dio può piegare la volontà fascista gli uomini e le cose mai e a tutti quegli sguardi e sorrisi sebbene non indirizzati a lui rispondeva con molto scrupolo levando ogni volta la mano macilenta con l'indice e il medio di varicati sicché la sera era stanco come se avesse portato una torcia di cento chili nella processione del venerdì santo e non gli bastava il fiato per rispondere alla moglie e alla figlia che in ogni modo volevano fargli capire anche con domande indirette che ormai erano completamente d'accordo con lui è vero o no che quei fascisti ci dicevano una carrettata di sciocchezze gentili gli inglesi che tante compita guarda che i biscotti erano molto fini anche la cioccolata era fine oh ma guarda che quei fascisti erano veramente dei criminali io preferisco gli americani no guarda che gli inglesi sono signori in tutto sì ma gli americani hanno qualche cosa va bene ma guarda che gli inglesi tuo padre che cosa ha stasera Fiscitello aveva soltanto questo e non si sentiva dentro una sola parola da dire fino a ieri il cervello gli brulicava di parole come una pietra di campagna può brulicare di formiche parole di protesta di spetto insofferenza noia gli correvano dal cervello per tutto il sangue gli andavano alle labbra su cui egli picchiava con la palma come a saldarne la chiusura gli lasciavano sulla lingua un forte sapore di caffè muffito e pipa intasata ora invece si sentiva il cervello liscio e nudo come il sasso di un torrente un sasso compatto pesante tutto sonno che gli portava giù la testa mentre Rosina e Maria ancora agitate dalla domanda che gli avevano rivolta aspettavano la sua risposta beh vado a dormire disse Aldo Piscitello e presa una candela andò a rifugiarsi nell'angolo del camerone dove stava rannicchiato il suo letto durante la notte si svegliò due volte e sia la prima che la seconda utibussare ai vetri il malinconico suono che dal balcone del municipio mandavano le zampogne scozzesi da anni quando si svegliava sentiva ancora risuonarsi in bocca bestie e cornuti che aveva cacciato fuori dormendo ora invece udiva quel suono lamentoso ed estraneo e non più sulla bocca ma fuori di casa sbalordito di se stesso e di quel che succedeva ricadde giù nel sonno e vi precipitò per ore e ore senza mai intoppare un'immagine un ricordo una parolaccia una parolina un monosillabo senza mai toccare il fondo l'indomani richiamato da una luce che si faceva lentissimamente meno debole come al di sopra di opache onde lentissimamente risalite l'indomani fra le dieci e mezzo e le undici riuscì con indicibili stenti a svegliarsi dove era più sulla lingua quell'amaro sapore di una volta quel sapore di caffè muffito e morchia di pipa lasciatogli dai vari bestie e cornuti pronunciati durante la notte quell'aspro eccitante ributtante e piacevole sapore che lo faceva sputare contro il muro e smaniare e srotolare le coperte e santare giù dal letto prosit disse la moglie hai dormito come un bambino e mi pare che non sei ancora soddisfatto e gli sorrise veramente come un bambino e chiese che lo lasciassero a letto ancora un poco ma ecco ormai che la storia di Piscitello volge al termine che cosa narreremo di lui che dormi quasi una settimana con pochi intervalli di luce abbandonato dall'odio che lo aveva fatto gridare e dimenarsi per tredici anni quest'uomo mite si trovò pieno di sonno e sbalordimento e notò che i reumi profittando che gli aveva badato ad altro ed era stato notte e giorno assorto nelle sue imprecazioni gli si erano arrampicati fin dentro la nuca parecchi altri sentimenti cercassero in un primo momento di occupare quell'animo vecchio e abbandonato una mattina egli si cavò una sciarpa e ne baciò la suola dicendo che così baciava la polvere della sua terra adorata e una sera gettando lo sguardo stanco sulla città sottostante fece capire con l'imprecisione lo stento proprio al suo linguaggio che aveva desiderio di voltolarsi fra le rovine di quei poveri palazzi e baciarle pietra per pietra granellino per granellino ma questi due segni di un animo che passa dall'odio all'amore non furono seguiti da altri dopo una settimana che era stato in casa si vestì del solito solino giacca dura e pantaloni a righe ormai così vecchi e scoloriti che parevano un disegno a matita mal cancellato con la gomma e tentò una passeggiata per via incontrò i vecchi amici ma ogni volta dopo cinque minuti di silenzio e di imbarazzo gli stringeva la mano basta rivederci e se ne andava né odio né amore abitavano ormai quel piccolo uomo aggobbato che camminava spingendo avanti sul collo magro e lungo la testa completamente di marmo tanto era scarna e lucida in ogni suo punto se vogliamo essere veritieri e non lasciarci trasportare dalla tentazione di adornare il nostro eroe dobbiamo dire che una sola qualità lo vestiva dalla testa ai piedi di fuori e dentro ne involgeva ogni atto e parola insignificante egli era tornato insignificante come lo era stato sempre fino al 1930 insignificante come lo fu nel 1925 anno in cui fu talmente insignificante che una signora fece con un suo amico il diavolo sa cosa sopra un divano alla presenza di lui e zanzare che di notte nel buio del camerone saettavano a centinaia i corpi della moglie e dei figli risparmiando totalmente lui perché di notte le zanzare hanno bisogno di bere sangue e non acqua il giorno invece gli si posavano tutte sulla faccia come nel luogo più tranquillo e riparato della casa la moglie si stizziva vedendogli il viso coperto di insetti che vi camminavano e dormivano ma non te li senti addosso sia lodato dio gli diceva con una credine e alzala una mano sì sì come no rispondeva egli e per far piacere a sua moglie levava una mano ma anche qui si mostrava inesperto perché sbagliava il punto del viso e andava a picchiare sul collo mentre le zanzare gli stavano sulla tempia o sulla tempia mentre le zanzare gli stavano sul collo frattanto qualche cosa si preparava per lui ed egli non ne sapeva nulla e nulla in verità stava bene al suo viso e alla sua persona tutta come questo non saper nulla era stato nominato sindaco della città il farmacista Platania reduce dal confine se non sbaglio disse la moglie a Piscitello il nuovo sindaco è tuo amico finisce che sarà il promosso impiegato di ruolo ma non era questo che si preparava per Aldo Piscitello nessun avanzamento e nessun premio custodiva il futuro per lui e quale avanzamento e quale premio avrebbero preso una strada talmente strana e poco battuta la cosa che si preparava per Aldo Piscitello e di cui egli non sapeva nulla era il suo licenziamento in tronco dal posto di impiegato municipale nell'anticamera del sindaco tra la polvere dei calcinacci buttati giù dall'ultimo bombardamento si aggiravano sempre sporcandosi di bianco e ficcandosi qualche chiodo nelle suole cinque o sei persone e quando capitavano davanti al tavolo rotondo che occupava il centro del salone vi battevano sopra il pugno e chiedevano giustizia e prima di tutto che si mandassero via gli squadristi dei quali avevano imparato i nomi a memoria sicché spesso sotto la volta a cassettoni e fra le tende strappate risuonava Aldo Piscitello o il Piscitello o quel Piscitello era bene dicevano in sostanza queste persone che dopo vent'anni che soffrivano loro soffrissero quelli che li avevano fatti soffrire come per esempio il tale il talaltro e Aldo Piscitello il Piscitello quel Piscitello il sindaco si trovava come suol dirsi dalle mie parti in un mare di confusione come faccio diceva sollevando e sbattendo le carte che riguardavano Piscitello l'altro canto io devo eseguire l'epurazione e nel modo più rigido una mattina stabilì di tagliare la testa al toro e si recò in persona dal Piscitello nel paese dell'Etna da tempo a causa dei bombardamenti non arrivavano in Sicilia né cosmetici né tinture per i capelli così molte persone avevano aggiunto alla magrezza provocata dai disagi una canizia repentina e pietosissima come cenere di una giovinezza scomparsa in una vampata di paglia il sindaco invece era riuscito a procurarsi una tintura gelatinosa che lo rendeva corvino ma lucidissimo e attirava su di lui gli infiniti e minutissimi occhi degli insetti già nella scalabuia di Piscitello fu assalito dalle mosche ed entrò nella casa o per meglio dire nell'unico camerone con un nimbo ronzante entro il quale in vano picchiava con la destra e con la sinistra d'altro canto Aldo Piscitello aveva anche lui le sue mosche e le sue zanzare contro le quali però non muoveva un dito profittando della quiete in cui lo avevano lasciato Rosina e i figli recandosi alla messa il colloquio fra il sindaco e Aldo Piscitello fu al principio molto impacciato e fioco poi si animò vogliamo dire che al principio Piscitello taceva e il sindaco diceva poche erade parole e in seguito Piscitello taceva e il sindaco gettava con violenza parole su parole non posso fare altrimenti devo eseguire nel modo più rigido l'epurazione so come lei la pensava ma il fatto è che lei è squadrista diamine squadrista io perdonerei alla violenza specialmente quando poi c'è stato il pentimento ma la violenza genera violenza e come si fa a indurre gli altri a perdonare devo licenziarla non posso farne a meno a questo punto il sindaco guardò Piscitello dal quale probabilmente si aspettava una parola cattiva ma il viso di Piscitello era privo di sangue di curiosità e perfino di sguardo essendo le sue palpebre levate solo a metà e brillando in quella metà d'occhio scoperto solo una parte trascurabile della pupilla e questa medesima trascurabile parte della pupilla essendo bianca come è in generale il bianco degli occhi con l'effetto che il marmoreo viso del Piscitello era più che mai di marmo gli insetti che vi dimorravano sopra volendosi le ali o sbrigando comodamente altre loro faccende ne aumentavano per contrasto il candore e la piccola ombra che li seguiva pareva piuttosto che un'ombra la loro immagine riflessa dalla lucida superficie su cui camminavano il sindaco parve preoccuparsi e quando finalmente Piscitello disse sì come no il sindaco gettò un respiro di sollievo e giudicò anzi che era arrivato il momento di salutarlo prima che gli rientrasse nel suo impenetrabile silenzio e lo salutò infatti battendogli affettuosamente una mano sulla spalla e poi abbracciandolo e infine baciandolo sulla fronte gelata in macchina sulla via del ritorno il sindaco era perplesso stupito e da un altro verso soddisfatto perché la giustizia la severità o addirittura il male egli l'aveva operato grazie a Dio non su un uomo vero e proprio ma su un essere poco poco più animato della sedia che quell'essere stesso aveva occupato per 40 anni nel suo quotidiano lavoro davanti a un tavolo del municipio quanto alla famiglia si sarebbe poi studiato se non fosse il caso di aiutare la signora Rosina che era stata sempre una brava donna 1944 44 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16